Musica Ciao a tutti ragazzi da Blufforever Oggi Nuovo video E' un contest che vi porto di Nainggolan If Questo contest perchè? Perchè vi tengo a ringraziare per i 58 iscritti Diciamo che questo qui sarebbe un ringraziamento per i 50 Arrivare un po' tardicello Di qualche giorno Comunque io vi ringrazio davvero Di cuore siamo già a 58 anime E spero che possiamo diventare sempre di più Come una voragine Quindi Ci sono degli step da fare per poter partecipare A questo contest che ricorda Per playstation 3 e per playstation 4 Bleh sono dislessico 5 step Il primo è quello di iscriversi al canale Se non siete già iscritti Il secondo di condividere il video Controllo quindi mi raccomando Condividetelo Il terzo è quello di mettere mi piace al video Il quarto è quello di commentare Qui sotto Con un numero da 1 a 100 E poi estrarò su random.org In un altro video E il quinto passo è quello di mettere mi piace Alla pagina di facebook Il link come al solito in descrizione Salve imprevisti Comunque questa estazione avverrà Giorno 11 settembre 2014 Precisione A posto Alle 6.30 Ovvero 18.30 Di pomeriggio In descrizione scriverò Comunque questi step Quindi Comunque ho detto Stavo imprevisti Perché se per caso ci sia un imprevisto Ricordatevi di passare sulla pagina di facebook Che potete scrivere per esempio Che ne so Il contest non lo faccio Oggi lo faccio per esempio Fra un'oretta Oppure lo faccio domani Quindi appunto Rimanere centralizzati Sulla pagina di facebook Il link è in descrizione Quindi ragazzi Per questo brevissimo video è tutto Vi ringrazio ancora Per i 58 iscritti Da Blufforever Quindi è tutto Bella